Yu-Gi e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui per parlare di Violent Smasher, il nuovo set in uscita il 16 novembre in tutte le fumetterie, per capire effettivamente se conviene sboostarlo o meno. Detto questo però, ovviamente prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da JackStore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo con il video. Oh ragazzi, questo è lo spoiler, ma partiamo dai tre mazzi che potremo trovare. Abbiamo Memento, Valmonica e Centurion, che tra i tre dovrebbe essere sia il più forte che il più costoso. Non voglio ovviamente dilungarmi troppo, perché ovviamente ne abbiamo già parlato negli scorsi video e nel video in collaborazione con Korami, se ve lo siete perso, ve lo linko qua sopra nelle schede. Partiamo parlando di Memento. Si tratta di un mazzo che gioca principalmente da cimitero e ha come suo mostro principale lui, creazione combinata. Si tratta di un mostro che può essere evocato specialmente mischiando 5 mostri Memento con nomi diversi dalla mano e cimitero nel deck e nell'extra deck. Mentre non controllo nessun altro mostro, questa carta può attaccare tutti i mostri controllati del tuo avversario, una volta c'è oscuno. Una volta per turno, se il tuo avversario attiva una carta o un effetto, eccetto durante il damage step, può evocare specialmente un mostro Memento da mano in cimitero. Quindi nel pratico, vedendo anche un po' di partite di testing online, punta principalmente a fare OTK con lui. Ovviamente poi ci sono carte che danno supporto a questa cosa, in quanto abbiamo festa delle ossa Memento, che praticamente bandendola e targettando un mostro, questo può fare danno perforante al mostro in posizione di difesa. E ritorno delle ossa Memento, che ovviamente recita. Se uno più mostro il Memento, scoperti che controlli lasciano il terreno per una carta dell'avversario, evoca specialmente un Mementlan Tecutlica, creazione combinata dalla mano deck, ignorando le sue condizioni di evocazione. Quindi indicativamente tirate il 5000 e ovviamente avete sia un qualcosa che vi parla dai danni avversari, sia un modo per comunque prendere vantaggio nel turno successivo. Ah, ovviamente mi stavo dimenticando che comunque, oltre ad avere le due carte magie che supportano la meccanica, abbiamo ovviamente Goblin Mementlan, che ovviamente scartandola per il resto di questo turno, l'avversario non può scegliere come bersaglio mostri Memento che controllo o con effetti delle carte, quindi nel pratico ci dà la possibilità di proteggere anche il nostro punto di potere. Ah, ovviamente prima che ce ne dimentichiamo, abbiamo ovviamente anche il Goblin Mementlan, che ovviamente scartandola ci permette di proteggere i nostri mostri dagli effetti delle carte dell'avversario. Quindi nel pratico abbiamo anche modo di proteggere il nostro mostro che nel pratico ci dovrebbe far vincere. L'unica cosa e penso sia il problema principale di questo mazzo è che giocando tanto da cimitero si ritrova spesso o in difficoltà quando incontra carte come Shifter. Nel senso, o te chiami, no, neanche Tier Lament, perché nel pratico guardiamoci nelle palle degli occhi, Shifter è tipo quel genere di carta che la tiri e l'avversario skippa il turno. È un po' così come anche i droll oppure la trappola delle arpie. So, so quelle carte un po' tumorali che quando ve le tirano vi tocca, vi tocca di, vabbè, end phase basso. Fermi ragazzi una cosa importantissima. Se volete supportare questo canale vi basta solamente iscrivervi, commentare e mettere mi piace. A voi questa cosa non cambia niente ma a me da un supporto enorme, soprattutto se voglio arrivare entro a fine anno a 5k. Detto questo, grazie mille a chi lo farà e per il resto vi lascio al video. Passiamo adesso a Valmonica. Ragazzi, qua nel pratico non so che dirvi, nel senso mi sono studiato un po' il mazzo, però nel pratico non riesco a capire dove voglio andare a parare. Più che altro perché ho visto un po' di board, riesce a fare, vabbè, bavusca, a polla, però, boh, nel senso, carino. Si gioca coi performage, cioè non volevo giocare i performage dell'epoca di Pepe, però li inizia e li finisce. Cioè non è troppo control, non è troppo combo, ma via de mezzo, mettiamola così. Non so neanche come venderlo, se vendervelo bene o no. Vi dico solo che tanta gente mi ha chiesto le carte perché gli piace. Io so di tutt'altro parte. Detto questo, passiamo al vero mazzo che effettivamente mi interessa ed è quello che voglio effettivamente giocare, ovvero Centurion. Questo mazzo ha una meccanica incredibile, soprattutto perché mi ha ricordato molto Bestia Cristallo, perché i mostri, in quel caso, quando vengono distrutti, vanno nella zona carte magia e trappola e sono magie continue. In questo caso i mostri vengono considerati come trappole continue e poi da quella zona possono anche essere evocati specialmente. Quindi è un po' il contrario rispetto a quello che era Bestia Cristallo. Ed è molto figa come cosa perché questi mostri possono essere rievocati sul terreno anche nel turno avversario. In più, la magia, la terreno, questa qui, in quanto dice che se uno o più mostri vengono evocati specialmente, può immediatamente dopo che questo effetto sia risolto, sincro evocare un mosto sincro utilizzando i mostri che controlli come materiale, compreso un mosto Centurion. E qui il vantaggio qual è? Il fatto che io posso utilizzare mostri anche di altri archetipi, quindi nel caso io voglia ibridare questo mazzo con, mi hanno detto anche, con Samurai Superpesante o Horus, posso utilizzare anche quelli come materiali. In più, non sono limitato a evocare solo sincro Centurion, ma anche roba di altri archetipi. Quindi il vantaggio qual è? Che posso evocare nel turno avversario anche carte come Crimson Crisis. Puoi utilizzare il suo effetto, visto che ho l'altro sincro Centurion già sul terreno, ed evocare Calamity, che mi dà un vantaggio non enorme di più. Cioè, obbligo l'avversario palesemente a schippare il turno. Altre carte molto interessanti, ovviamente, sono i tre mostri principali, che dopo vedremo la rarità, ma spoiler, sono tutti e tre ultra, compreso il sincro. Poi, come altra carta interessante, abbiamo lei, che è vero risveglio Centurion, che praticamente è la negate e può essere anche serciata nel pratico, eh. Quindi non è assolutamente male. Inoltre, rispetto agli altri due mazzi, ha un vantaggio, a livello di carte che usciranno più avanti che lo sopporteranno, è una carta magia che nel pratico ti fa serciare carta Pyro. Quindi nel pratico potete aggiungervi sia lei che... Allora, non è la carta principale, ma è molto buona, perché ovviamente fare lei Pyro era chiedere troppo. Mentre la seconda carta, che potrebbe essere interessante da giocare e che può essere serciata da questa carta magia, è Guscio di Fuoco Vulcanico, perché nel momento in cui io gioco Repartorus, che mi obbliga ovviamente a scartare carte per fare Foolish, io posso utilizzare lei come praticamente tre scartini utilizzandone nel pratico uno solo. Quindi sì, ragazzi, so che sia intuito dal video, sono molto gasato, non vedo l'ora che sia settimana prossima, sono già pronto a comprare tutto. Per il resto ho già recuperato tutto quello che mi serviva. Detto questo, adesso passerei alle listampe, le più interessanti, che vedendo qua un po' velocemente non sono molto incredibili per quanto riguarda lo standard, ma molto buone per quanto riguarda i retroformat. Abbiamo quindi, ce ne può essere solo uno, ovviamente non dico che sia una carta di merda, dico solo che la carta è stata già ripintata in Wisu, quindi non serviva. Stessa cosa Drago Berserk del Teni, che se non ricordo male era stato ristampato in un Battle of Legend, se non ricordo male è nell'ultimo, quindi anche questo è un po' secondario. Poi come altre carte buone abbiamo Bagusca, questo ovviamente ottima carta che da mago costava tipo tre euro, adesso sta ancora a tre euro, però si può recuperare in maniera molto più economica. Poi abbiamo Moraco Evocatore, Angelo di Zera, Fioriera Magica, questo è Collasso Gravitazionale, no, Crollo Gravitazionale, anche questa carina che costava qualcosina. Poi abbiamo L'Onesto, roba Performage che si gioca in Valmonica, quindi ok. Lei totalmente a caso, non ricordo abbia avuto ultimamente ristampo, quindi va bene. I due onesti così, Bagusca ci sta, si vende ancora a tre euro, però attualmente potrebbe essere un tantino più facile da recuperare. Andando avanti poi abbiamo L'Arci Signore Cristia, questa ottima carta perché Common iniziava a costare un euro e super anche qualcosina di più, quindi assolutamente ottima per Edison. Stessa cosa il Combattente Colossale, che non costava niente, però vabbè, almeno è un pochino più facile da recuperare rispetto a prima. Passando adesso alle rarità, abbiamo 35 rare, 15 super, 10 ultra rare, 3 quarter e 5 collector. Per quanto riguarda Memento, abbiamo Creazione in versione ultra raro, collector e 25esimo, Mazza in versione ultra raro e la Carta Magia Festa in versione ultra raro. Passando adesso invece a Centurion, qui il mio portafoglio piange, perché praticamente tutti i mosti sono stati fatti in versione ultra, il Syncro in versione ultra collector e 25esimo e a parte tutto il resto che ovviamente è super raro, abbiamo Giuramento Stemma Ultra. Devo piangere? Posso piangere? Un pochino sì. Peccato, speriamo che i prezzi siano contenuti, anche se per adesso non ci credo abbastanza, anche perché qualche giorno fa ho visto Primera in prevendita a 40 euro l'una, però vabbè, confido di spendere sui 150 euro. E per concludere con Valmonica abbiamo ovviamente Angelo Valmonica in rarità collector e la terreno e scelta Valmonica in rarità ultra rara, perché ovviamente tutti i mazzi ne devono avere due. Centurion qua. Ah, ovviamente Konami per convincere anche voi giocatori di Edison a spacchettare questo prodotto, Cristia non ve l'ha dato solo raro, ma ve l'ha dato anche quarter century, quindi se volete realizzare il vostro mazzo e ovviamente non potete permettervi il Cristia Secret che attualmente, se non ricordo male, sta sui tipo 120-130 euro ex, mi sa che vi tocca puntare su questo. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate, ma soprattutto se acquisterete questo prodotto o andrete solamente di singole. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video.